Che suono fa la tua casa? Benvenuto! Stai ascoltando Archistar di provincia, storie di design dal mondo. Io sono Federica. Che suono fa la tua casa? Tiffany Howell farebbe proprio questa domanda ad un nuovo cliente. Tiffany è una designer di interni che ha fondato lo studio Night Palma a Los Angeles con un passato da music producer per grandi big come Justin Timberlake e Jennifer Lopez. Proprio per questa sua passione e attenzione al suono, per capire come il cliente si vuole sentire e che energia deve avere lo spazio, parte da una canzone. I suoni sono le fondamenta dei suoi progetti, ancora prima di immagini e materiali. In effetti noi sentiamo, ancora prima di nascere, già nella pancia della mamma. In Italia, Chiara Luzzana, una affermata sound designer, si definisce una pittrice del suono. Mi viene in mente una delle mie storie preferite, Alta Fedeltà. Nel 95, Nick Orby ha scritto questo romanzo che è diventato subito un bestseller. E dopo cinque anni hanno fatto un film con John Cusack. Dopo vent'anni esce la serie TV. Il protagonista Rob è interpretato da una donna, Zoe Kravitz, la figlia del famosissimo Lenny Kravitz. È la regina delle compilation. Nel film Rob associa canzoni a persone e avvenimenti, ma non agli spassi. Io vorrei fare un esperimento con il mio primo ospite, Matteo Grandi. Matteo è un amico, si occupa di comunicazione, ma la musica fa parte della sua vita da sempre. Proprio lui mi ha composto e realizzato il jingle di questo podcast. Quindi, grazie per il jingle e per aver accettato di partecipare alla puntata. Ciao Matteo! Ciao Fede! Grazie mille di aver voluto un po' della mia musica nel tuo podcast. Lo sai che è stato un piacere e un onore. E grazie mille di avermi chiesto di essere qui oggi. La prima domanda che vorrei farti è Possiamo fare una playlist delle nostre case? E secondo te la nostra casa suona sempre la stessa musica? Beh, innanzitutto Alta Fedeltà è una delle mie storie preferite. Anche io ho letto il libro, ho visto il film, ho seguito la serie che alla fine mi piace tantissimo come hanno riadattato la storia su Brooklyn e quindi che bello che abbiamo questa stessa reference. E sì, possiamo assolutamente fare una playlist delle nostre case perché è un po' come per Rob all'interno del film. In realtà la musica segue sempre e comunque gli stati d'animo e quindi noi le nostre case le viviamo, ci viviamo emozioni, sentimenti dentro e quindi sì, possiamo sempre comunque fare una playlist delle nostre case e la cosa molto bella secondo me di una playlist della nostra casa o delle case della nostra vita è che cambia sempre perché il modo in cui noi ci approcciamo e viviamo la casa e quindi anche quello che noi proviamo e sentiamo all'interno di questa casa cambia, cambia continuamente e quindi cambia la musica, cambiano i suoni e quindi è una playlist che è sempre viva. Collegandomi di nuovo al film, per Rob il vinile diventa oggetto di culto, va oltre la sua funzione. Posare il vinile sul piatto diventa un rito. Quel giradischi è una presenza importante nella stanza. Proprio al Salone di Milano, Ikea ha presentato una linea di componenti dedicati alla musica, supporti per tastiere, tavoli e anche un giradischi realizzato in collaborazione con Swedish House Mafia. Ikea vuole quindi sottolineare il lato fisico della musica e ne rivendica il diritto di occuparne lo spazio. Negli anni ho aiutato vari musicisti a progettare stanze per accogliere i loro strumenti. Room Studio Compress, amo questo termine, stanze per sgonfiarsi, dallo stress fuori casa, per rilassarsi. Queste stanze erano veri studi di registrazione o semplicemente vetrine per le loro collezioni. Matteo, tu suoni il basso. Che spazio occupano i bassi in casa? La postazione di Home Studio che più mi soddisfaceva era stata realizzata hackerando proprio dei mobili Ikea. Ci sono tutta una serie di tutorial su YouTube che ti insegnano come puoi usare dei mobili low cost e usare componenti in un modo funzionale a creare dei supporti comodi per registrare in casa. Che spazio occupano i miei bassi in casa mia? E quindi in realtà il tema della musica, no? Perché poi un conto suoni bassi, un conto è avere una postazione per poter registrare e produrre musica. come nel caso del tuo jingle, sì c'è il basso, ma c'è anche un beat di batteria che è elettronico, c'è una registrazione dal vivo della chitarra, c'è uno spazio in cui tu devi ascoltare tutti questi elementi che vengono messi insieme, li devi mixare, quindi devi trovare le frequenze che più ti piacciono e devi dare, diciamo, una importanza, una priorità a ciascuno di questi suoni. È uno spazio importante, è uno spazio importante che però anche qui, come essendo comunque assoggettato al modo in cui noi viviamo le nostre case, cambia sempre. Quindi in questo momento, per esempio, da quando è nato Orlando, che è il mio secondo figlio, lo spazio è un po' ridotto, nel senso che molti dei miei bassi sono impilati verticalmente sopra un mobile dentro le loro custodie e un paio, che sono quelli che tengo appesi più spesso, che suonano più spesso, sono appesi alle pareti della mia sala. Stessa cosa per gli amplificatori che occupano altrettanto spazio. Il mio amplificatore è grande quanto un'armadia 2 Ant, è finito a casa di mia madre a prendere polvere ed è rientrato in casa il mio amplificatore da studio che è più piccolo di un comodino. E la stessa cosa per le postazioni di produzione. Prima che nascesse Orlando, avevo, come ti dicevo, una scrivania che era a te che ha con i miei ear monitor, la scheda audio e altre interfacce che usavo per produrre musica, che ha dovuto fare spazio ai giochi dei bimbi, perché appunto Orlando è il secondo figlio, Ludovico è il primo, e quindi i bimbi diventavano due, e la casa è piccola e non c'era tanto spazio, e quindi da una scrivania ho ridotto tutto in una postazione molto più fluida e liquida, che è sostanzialmente una mensola e quando ho bisogno poi occupo vari spazi della casa, preferendo ascolti più in cuffia, magari piuttosto che lasciando le in ear solo per i passaggi finali. Ed è un tema focale in realtà, è un tema molto molto importante, è un tema caldo, perché giustamente la musica, ma le passioni in generale occupano degli spazi, ma come dicevo la casa non è mai fatta e finita, non è un'entità morta, ma è un ambiente, è un ecosistema vivo. La cosa bella delle passioni è che se sei realmente appassionato, troverai sempre un angolino o un posticino per dedicare, da dedicare fisicamente ai tuoi strumenti. Grazie Matteo. Durante il lockdown, la sfera professionale è entrata nel privato, siamo stati costretti a connetterci col computer per incontri di lavoro online, chiacchierate con gli amici, lessioni di ginnastica. Abbiamo avuto molto tempo per riflettere sulla nostra casa. Come designer ho notato che in tanti, post lockdown, mi hanno chiesto case con spazi divisi, magari cucine separate, un po' in controtendenza con l'open space di gran moda già da anni. Piuttosto naturale, credo. Durante il lockdown, nonostante io viva in una casa abbastanza grande, con marito e figlio sempre lì dentro, il mio spazio personale è stato invaso. Ricordo che appena trasferiti a Londra, io e Andrea abbiamo affittato un monolocale di 19 metri quadrati. Siamo incredibilmente sopravvissuti, perché forse eravamo molto giovani e innamorati, ma appena ci siamo trasferiti in un appartamento, seppur piccolo, ma con delle stanze, quei muri hanno acquistato un valore immenso. Finalmente potevo parlare al telefono senza farmi sentire. Quando ho chiesto ad amici e parenti che suono facesse la loro casa, quasi tutti mi hanno risposto il silenzio. Questa risposta mi ha spiazzato, ma credo sia più un desiderio di silenzio. Come sostiene Yuri Suzuki, durante la pandemia, le persone sono diventate più sensibili ai suoni. Non abbiamo frequentato i mezzi pubblici per diverso tempo e ora è difficile riabituarsi al rumore del treno, della metropolitana. Vorremmo essere più connessi con i suoni della natura, gli spazi aperti, gli animali. Forse è questo quello che intendevano le persone che ho intervistato. Perché ogni casa suona in modo diverso, sia in campagna che in città, la stessa struttura dell'edificio, pensiamo ad una cattedrale, e poi le finiture. A Londra, per esempio, in molte case vittoriane, è obbligatorio nei contratti mantenere la moquette o un pavimento in vinile per non causare rumore ai vicini di sotto. E gli oggetti? Quando compri un tavolo mi chiedi che suono faranno le posate, i piatti. Un tavolo in metallo trasmetto un suono diverso dal legno. I bravi product designer devono studiare che suono produce l'oggetto e come li assorbe. Lo scorso anno ho visitato la villa E1027, progettata da Eileen Gray a Cap Martin. Ricordo che fra i vari oggetti disegnati c'era un tavolo scrittoio con il piano in sughero, fatto così per poter scrivere anche la notte senza disturbare il compagno che dormiva. Il designer Tom Dixon nel 2020 ha lanciato una serie di tavoli in sughero, proprio per riproporre un materiale molto legato alla tradizione, ma con incredibili proprietà acustiche ed elastiche e resistente all'acqua. Nel mondo cucina le lamentele sono sempre le stesse. La cantinetta del vino, la lavastoviglie, il frigorifero fanno troppo rumore, disturbano le cene con gli amici negli open space. Yuri Suzuki, che ho già citato, un artista e designer del suono inglese, si occupa da anni di progetti che fanno interagire uomo e suoni, anche sotto forma di installazioni pubbliche. In risposta al lockdown ha lanciato un progetto in collaborazione col Museo d'Arte di Dallas, intitolato Sound of the Heart, the Pandemic Chapter. È una piattaforma online che invita tutti noi a registrare un suono della nostra casa, dal rumore delle stoviglie in cucina al bambino che piange e lì geolocalizza in un mappamondo in movimento, allo scopo di creare una sorta di empatia fra tutti i partecipanti del mondo. È arrivato il momento di presentarvi il mio collaboratore del suono, Andrea Martelli, socio fondatore di Garvan Acoustic, azienda di Faenza che produce sistemi di casse acustiche e pannelli fonoassorbenti di arredo. Ciao Andrea, ci troviamo proprio dentro al tuo studio, il luogo dove registro le puntate del mio podcast. Quindi, grazie a nome mio e anche a nome dei miei appassionati ascoltatori. Come si studia l'audio in una casa? Per prima cosa, si parte dalle esigenze delle persone, cioè c'è chi è appassionato di film, c'è chi vuole avere la musica in tutta la casa come sottofondo, c'è chi magari vuole ascoltare anche musica ad alto volume a prescindere dai generi musicali. Quindi, partendo proprio dalle esigenze delle persone che vivono nella casa, si inizia a progettare l'impianto. Quali sono i prossimi step? Nel caso di una costruzione nuova o di una ristrutturazione, si parte dalla piantina della casa, quindi, ambiente per ambiente, si va a decidere che cosa inserire, quindi, la tipologia di speaker che può essere ad incasso, che può essere on wall, gli ambienti interni e gli ambienti esterni. Si potrebbe sonorizzare un giardino, un'area con la piscina, una terrazza, si definisce un punto nella casa dove andrà a inserire le elettroniche, tutta quella componentistica che serve a far funzionare l'impianto e non deve essere avvisto, o meno, non per forza deve essere avvista. E poi si studiano sempre assieme al cliente tutte le sorgenti, cioè, c'è chi piace ascoltare la musica con il vinile, quindi servirà al giradischio, ovviamente, c'è chi magari ha una collezione di CD e quindi deve inserire per forza un lettore CD in casa, o chi semplicemente ascolta la musica da Spotify. Mediamente questo tipo di impianto, chi fa un impianto integrato in una casa nuova, le mette quasi tutte queste sorgenti. Perché è importante chiedere l'aiuto di un esperto del suono? Il sistema integrator è una persona fondamentale in questa fase. È la persona che, diciamo, chiude l'impianto, che chiude un po' l'anello magico, cioè quello di avere un sistema funzionale. È giusto avere, diciamo, speaker di qualità, elettroniche di qualità, ma poi se non c'è un professionista che le collega nel modo giusto, posiziona gli speaker nei punti idonei all'ascolto, il risultato può essere molto scadente. Quindi, insomma, il consiglio è sempre quello di affidarsi a un esperto. I prodotti Garvan sono molto personalizzabili e amati dagli architetti perché è facile da nascondere nei muri e nei pezzi di arredo. Ma Ikea Milano ha lanciato un messaggio fermi tutti, la musica ha ancora qualcosa da dire, comprate una scrivania per comporre musica o un giradischi, quindi la musica si riappropria di una dimensione spaziale. Qual è la tua opinione? In un'era completamente digitale il giradischi è tornato protagonista. Sembra una cosa strana, quasi assurda, però negli ultimi anni il trend diciamo di vendite di giradischi è aumentato in maniera esponenziale. Probabilmente il fatto di avere tolto il supporto fisico, la partenza poteva essere il nostro disco per passare alla cassetta, al DVD e ad oggi la musica e i contenuti audio girano praticamente quasi tutti in digitale. Questa mancanza di supporto fisico probabilmente ha creato un'esigenza, un ritorno a quelle che sono un po' le origini e il fatto di acquistare un brano e non averlo solo in digitale ma avere un disco ha un valore che esce da un discorso puramente qualitativo ma si concretizza, diventa materiale e probabilmente nel tempo avrà un valore anche fra molti anni. posso fare una previsione che ne so fra 30 anni una persona che è in possesso di un file legamente scaricato 30 anni prima con tutti i diritti del caso avrà un valore ma io credo che lo stesso brano in un disco abbia un valore completamente diverso. Inoltre il giradischi è un elemento anche d'arredo in commercio ne esistono di tantissimi tipi e quindi è facile trovare anche l'abbinamento giusto col proprio arredo. Se potessi progettare un apparecchio magico a audio che problema risolverebbe? Sarebbe un oggetto che in maniera autonoma racconta alle persone l'importanza del sentir bene la differenza che c'è tra ascoltare diciamo in maniera blanda o in maniera o in bassa qualità rispetto a un'esperienza di alto livello perché quello che lascia la musica ascoltata nel modo adeguato è un'esperienza che va vissuta è un'esperienza che rimane poi memorabile. Grazie Andrea prima di lasciarti la domanda è che rumore fa la tua casa? La mia risposta è variabile nel tempo la mia casa in realtà non faceva rumore suonava fino a pochi anni fa perché mi piace ascoltare la musica mi piace guardare film diciamo che da quando sono nati i miei figli quindi da circa sei anni a sta parte è anche diventata molto rumorosa. Fantastico ti invito a tornare presto in questo podcast ma non ti ho detto che rumore fa la mia casa la mia casa non sta mai zitta nemmeno quando metto le cuffie e cerco di meditare con Headspace le nuvolette bianche che dovrei inseguire con lo sguardo si colorano Montale le chiamerebbe lo sciame dei miei pensieri girano veloci assumono colori e quindi fanno tanto rumore ma è un rumore amico un saluto e un ringraziamento speciale a Matteo che non è potuto venire in studio con noi ma ci ha spedito la registrazione se ti è piaciuto l'episodio condividilo con i tuoi amici e continuo ad ascoltarmi su Spotify e tutte le piattaforme nelle note trovi tutti i miei contatti diretti per iscriverti alla mia newsletter e scoprire di più su di me e come posso aiutarti non dimenticare di lasciarmi tante tante stelline questo podcast è stato registrato presso Garvan Acoustic azienda produttrice di casse acustiche e pannelli fonoassorbenti di arredo musica di Matteo 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 musica di Matteo